Ho messo un microfono diverso, un microfono che credo di averlo comprato, non voglio dire, vent'anni fa, che in pratica, accendiamo un'altra luce, che in pratica forse è più rumoroso di fotofondo, ma è meno cupo, quindi spesso può dipendere dal microfonino che usi, costano quel lavagliere, non l'apparecchiatura radio che manda il segnale, il trasmettitore, il ricevitore, ma il microfono proprio che ci attacchi, quello proprio di questa marca che stavo usando prima, negli altri video che ho pubblicato poco prima di questo, è cupo, è troppo cupo, questo è più aperto il suono, è più aperto l'audio, però potrebbe fare un rumore di sottofondo, qualcosa del genere, che non è un difetto, è che è aperto, quindi avendo meno bassi, è più sensibile ai rumori, non è un fruscio, può anche piacere, io credo che quegli altri che ho usato prima, li hanno resi più cupi, più bassi, proprio per togliere già nel microfono stesso, quel senso di apertura, come quando usi, come si chiamano? Quei controlli bassi, acuti, una volta erano esterni, adesso sono incorporati nei software audio dei computer, software, non mi aveva la parola, e in pratica è tutto qua, questo è più acuto, più aperto, lo sto provando per la seconda volta dopo 20 anni, e diciamolo, 20 anni, sarà 20 anni che lo possiedo, che l'avevo comprato fa, neanche mi ricordo, perché all'epoca neanche li usavo i microfoni senza fili, e quindi eccoci qua, andiamo a sentire se ci piace di più, più aperto, o ci piace di meno, certo, in un ambiente chiuso, dove non c'è rumore affatto, lo senti di più questa specie di rumorino sottofondo, in esterni magari è più gradevole, anzi, dopo faccio un'altra prova di questo tipo, in esterni, con rumore ambientale, se è più, se essendo più aperto può disturbare meno quel senso di leggerissimo rumore, che non è un rumore, è un qualcosa che quando apri troppo l'audio sugli acuti c'è, c'è sempre, andiamo a verificare questo come si comporta.